Ringraziare la chiave, la porta, la strada, chiamatela come volete, ma è un modo per farti stare bene, un modo che fa star bene chi ringrazia, ma anche chi viene ringraziato, ma il ringraziamento non è mai qualcosa di imposto, dire grazie non è solo questione di educazione, anzi l'educazione l'ho già spiegato, è una cosa importante, ma l'educazione vera deve nascere dal cuore, dire grazie non è una formalità, non è un modo per ringraziarmi l'altro, dire grazie è un modo per dirti ti voglio bene, per dirti ti rispetto, per dirti ti amo, ma se questo grazie non nasce soprattutto in una convinzione, o meglio con una convinzione che tutto ciò che mi è dato, tutto ciò che mi circonda, tutto ciò che io ho non è mio, ma mi viene da lui, bene sarà difficile se dimentico la dimensione verticale, vivere poi bene la dimensione orizzontale, Dio mi educa al grazie, Dio mi educa a dire grazie a tutti, soprattutto per le piccole cose, per i piccoli gesti, allora il ringraziare, il dire grazie, avere un cuore grato per noi credenti deve significare avere una coscienza, una consapevolezza che qualcuno mi ama sempre e comunque, non ricordo se era un film o se era un libro, qualcuno l'assumiamo, è vero, ma ogni giorno avere questa certezza, questa consapevolezza, avere e sentire questa presenza, questa presenza di un Dio che mi viene sempre a cercare, di un Dio che mi viene a pescare in un mondo fatto il più delle volte o tante volte meglio di un mare torbido, guardate più l'uomo è immerso in un mare torbido di peccato, di egoismo, di infedeltà, di ingratitudine, più l'uomo è disorientato e più Dio ti cerca e questo dovrebbe farci nascere un cuore grato, dire grazie, ieri abbiamo detto qualcosa sulla Eucaristia che vuol dire grazie, vuol dire rendimento di grazie e l'Eucaristia, il sacramento della presenza continua, costante, viva, vera, reale di Cristo è appunto un sacramento di grazie, di gratitudine che l'uomo deve continuamente avere verso Dio, un grazie che mi viene anche da Dio come abbiamo detto ieri, perché Dio con il suo grazie che è un grazie d'amore mi vuole felice, Dio è felice quando io sono felice e se per lui rendermi felice vuol dire dirmi grazie attraverso il suo amore, Dio non si risparmia nel donarsi e nel dirmi grazie, ma questo dovrebbe convertire poi il mio cuore per dire a Dio e per lodarlo e per vivere con lui una vita fatta di rendimento di grazie, il ringraziamento, ecco scopriamo questa parola, chiediamoci se nel mio cuore vi è la gratitudine oppure vi è sempre la rivendicazione o la tristezza, ci vediamo domani, Padre Pio TV diritto al cuore, ciao!